Stop all'erosione dopo le forti mareggiate dell'inverno 2023, dunque difesa della costa. Ieri mattina a Francavilla il pontone è entrato in azione per il trasporto di massi, operazione necessaria per rinforzare le scogliere e per chiudere i varchi, così da mettere al riparo la spiaggia, nel tratto compreso tra il fiume Alento e lo stabilimento Bagni Nettuno. In via di completamento gli interventi nella zona nord e sud di Francavilla, il sindaco Luisa Russo. Sindaco Russo è cominciato il terzo ed ultimo lavoro a difesa della costa di Francavilla nella parte centrale del litorale. Sì, è cominciato il terzo lavoro e sono in via di completamento gli altri due lavori che hanno riguardato tutta la costa francavillese, zona nord, zona sud e adesso stiamo lavorando sulla zona centrale. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e soprattutto di essere riusciti a realizzare questi interventi prima della stagione estiva. C'era il rischio che slittassero all'autunno. In sinergia con tutti gli enti, con il lavoro degli uffici comunali, regionali, del vice sindaco che mi ha dato una grande mano con Dallega Aldemanio, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Sindaco, interlocuzioni assolutamente positive con la regione Abruzzo, a disposizione in totale 1.250.000 euro per questi lavori, vero? Sì, sì, la regione ha finanziato questi interventi già dall'anno scorso con finanziamenti regionali e con parte di finanziamenti del PNRR, quindi ringrazio anche la regione per questo che ha capito il problema delle coste abruzzesi in cui bisogna continuamente intervenire per contrastare il problema dell'erosione. In questo momento le zone interessate dal transito e dalle operazioni del pontone sono interdette alla balneazione. Per quanto tempo? Il termine di ultima azione dei lavori è per il 25 giugno, ma contiamo di terminare prima e quindi un piccolo sacrificio, ma che sicuramente fa sì che si possa completare in sicurezza l'intervento. Grazie. Grazie.